Si svolgerà domenica 5 marzo, presso il Palazzetto dello Sport Peppe Maira di San Gataldo, lo stage di arti marziali Coscido Budo. Il Coscido Budo, o Via per la Ricerca dell'Equilibrio, è l'arte marziale che cerca di sintetizzare le più note tecniche orientali, ma che come pratica ha origini siciliane, date dal suo fondatore Michele Lattuca. Gli allievi, provenienti da 20 comuni siciliani ed una delegazione emiliana, si incontreranno per una dimostrazione della disciplina, in virtù del riconoscimento ricevuto dalla regione siciliana. Molte le personalità che saranno presenti. José Alberto Freda, consulente scientifico. Michele Mancuso, deputato regionale e proponente della legge del riconoscimento del Coscido Budo come disciplina sportiva. Sergio D'Antoni, presidente regionale del CONI. Andrea Patti, vicepresidente dell'OPES, organizzazione per l'educazione allo sport. Girolamo Monaco, direttore istituto penale minorile di Caltanissero. Leonardo Burgio, sintaco di Serra di Falco. Gianfilippo Bancheri, sintaco di Delia. Giuseppe Virciglio, sintaco di Buonpensiere. E Salvatore Scarantino, responsabile provinciale del CONI.